E' stato avviato concretamente il risanamento del Comune di Milazzo, poggia sulla veridicità di un bilancio, circostanza inedita rispetto al passato, lo ha detto il Sindaco Carmelo Pino, nell'annunciare il lungo escursus sulla manovra economico-finanziaria dopo la dichiarazione di dissesto pronunciata l'11 gennaio 2013 e la dichiarazione di scioglimento del Consiglio Comunale. Basta più fessi e furbi. Sì, oggi ho iniziato questo nostro incontro con queste affermazioni perché a Milazzo purtroppo vi sono state due categorie di contribuenti. I fessi che ho dei fiscotali, quelli che hanno avuto il senso dell'appartenenza, il senso e la responsabilità di partecipare a coprire i costi dei servizi e gli altri che non essendo stati magari registrati al fisco locale continuavano ad essere evasori se non elusori. Oggi con questa azione mirata all'accertamento di quelli che sono e che dovrebbero essere contribuenti dell'ente stiamo mettendo il Comune nelle condizioni di poter trattare tutti i cittadini allo stesso modo. Hai parlato di veridicità del bilancio. Che c'è di diverso oggi rispetto al passato? Perché oggi abbiamo le entrate certe e sulla base delle quali l'ente potrà poi sostenere le spese. L'ente deve essere amministrato come un'azienda e bisogna avere presente quelli che sono i bisogni primari di una comunità alla quale bisogna dare delle risposte.